Gentili amiche e cari amici di Spazio Azzurro, ciao a tutti da Rossano Sambo e benvenuti. Durante il consulto Fiamme Gemelle eseguo sempre per i miei clienti la lettura dei registri akashici. Questa lettura non serve esclusivamente per capire se stai effettivamente vivendo una relazione di Fiamma Gemella, ma a molteplici altre funzioni che ora vedremo insieme. L'amore è senza dubbio uno degli aspetti più profondi e complessi dell'esistenza umana e una relazione con una Fiamma Gemella lo rende ancora più importante. Che si tratti di un'anima gemella o di una Fiamma Gemella, le relazioni possono portare immensa gioia e appagamento, ma possono anche essere fonte di tante sfide e tanti conflitti. Se ti trovi alle prese con problemi legati alla Fiamma Gemella, i registri akashici rappresentano una guida efficace per muoversi lungo il percorso. Prima di approfondire come i registri akashici possono aiutare a risolvere i problemi relazionali, rivediamo brevemente cosa sono. I registri akashici possono essere definiti come una biblioteca cosmica o un vasto archivio di informazioni che memorizza le esperienze collettive, i pensieri e le emozioni di ogni anima nel corso del tempo. L'accesso a questi registri può fornire profonde conoscenze sulle vite passate, ad esempio, sullo scopo della vita e sull'intricata rete di relazioni che danno forma alla nostra esistenza. I registri akashici possono rivelare le connessioni di vite passate tra gli individui. A volte le dinamiche delle nostre relazioni attuali sono influenzate da questioni irrisolte o da esperienze di vite precedenti. Riconoscere queste connessioni può offrire spunti preziosi per capire perché certi schemi o conflitti persistono nelle tue relazioni. Molti problemi relazionali hanno cause emotive ed energetiche profonde. L'accesso ai registri akashici può aiutarti a identificare questi problemi di fondo come traumi del passato o ferite emotive irrisolte, consentendoti di affrontare queste cose alla fonte. Ogni relazione che intraprendiamo, sia essa una fiamma gemella o meno, è un'opportunità di crescita e di apprendimento. I registri akashici possono far luce sulle lezioni specifiche che tu e la tua controparte siete destinati a imparare l'uno dall'altro. Questa intuizione può favorire una maggiore compassione e comprensione nella vostra relazione. I registri possono anche fornire indicazioni su come sciogliere i blocchi energetici e gli schemi negativi che ostacolano il flusso dell'amore e della connessione. Eliminando questi ostacoli è possibile creare una dinamica di relazione più sana e armoniosa. Attraverso i registri akashici è possibile attingere informazioni preziose per riconnettersi con il proprio sé autentico e acquisire una comprensione più profonda dei propri bisogni, desideri e limiti nelle relazioni. Questa consapevolezza di sé è essenziale per costruire legami sani ed equilibrati. I registri akashici in definitiva offrono un percorso profondo per la guarigione e la risoluzione dei problemi delle fiamme gemelle. Scavando nelle profondità della storia della tua anima e delle connessioni energetiche che condividi puoi ottenere chiarezza, liberare vecchie ferite e promuovere un senso più profondo di amore e connessione. Ricorda che l'esplorazione dei registri akashici è un momento di grande approfondimento personale e le informazioni che ottieni possono portare alla trasformazione e alla crescita delle tue relazioni e di te stesso. Un caro saluto da Rossano Sambo e a risentirci al prossimo podcast.